ciao bambini adesso proviamo a fare assieme il cuoricino origami allora partiamo da un quadrato di carta rossa e voi soprattutto grandi sapete bene perché ne abbiamo parlato cos'è il quadrato lo pieghiamo così a metà lungo questa linea che sapete una parola un po difficile si chiama diagonale lo apriamo e facciamo lo stesso dall'altra parte lungo l'altra diagonale adesso guardate lo mettiamo così come se fosse un aquilone pieghiamo da questa parte usando soprattutto il dito indice poi portiamo su e pieghiamo qua sotto adesso portiamo su questo pezzo e vedete che un pochino già la forma del cuore si può iniziare a vedere facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte e vedete che oramai il cuore sta proprio prendendo la forma giusta lo giriamo portiamo giù le due alette in alto poi pieghiamo questi due triangolini ai lati di qua e anche di qua e adesso ecco pronto il nostro cuoricino potete farlo dicevamo con la carta rossa o se non avete la carta rossa potete usare la carta bianca disegnarvi voi dei cuoricini o delle macchioline rosse o quello che la vostra fantasia vi suggerisce ciao a tutti i bambini e divertitevi ciao ciao